Si chiama Hyperloop e rivoluzionerà il mondo dei trasporti. Ne ha convinto il miliardario della Silicon Valley, ideatore di Paypal, Elon Musk. Come promesso ha presentato ufficialmente un progetto che sembra uscito da un libro di fantascienza. Hyperloop è un treno proiettile che dovrebbe poter raggiungere i 1200 km orari, un progetto faraonico sul quale molti esperti sono scettici. Anche quando realizziamo linee ferroviarie sopraelevate, cosa che facciamo continuamente ci sono costi importanti, anche in termini di diritti di passaggio, costi legali legati a questioni ambientali che mettono in pericolo la realizzazione di progetti simili. Alla gente non piace avere questo genere di struttura sulle loro case. Il biglietto dovrebbe costare 20 dollari a persona, ma il progetto di Elon Musk, patron di Tesla Motors e della società aerospaziale SpaceX, costerà almeno 68 miliardi di dollari, cifre che potrebbero lasciare Hyperloop ai confini della fantasia.